Che belle espressioni! Che idee geniali! Bella mossa questa! Brava Maria! Ma perché andai una cortellata pure a qualcuno già che possi? Ma che? Ma io che? Siamo abbastanza nasciati, ci sono nascosti qui per non farci aggredire. Mi raccomando Lili provo calire! Vieni! Vieni Lili! È il momento delle Roammerlaine! Le vostre idee su YouTube bricolage! Alessandro, insegnaci come funziona questa porta da piscina. Vedi, ci stanno anche i sassi, guarda! Ma i sassi che fanno? Si tirano! È comodissima sta porta, vedi? Non ne la fai, non ne la fai! Non lascerò mai! No, ma è spettacolare! Invece io, capito? Bella, guarda che gol! Manca entrata, guarda! Vai! Ma qua sta benissimo, poi è pure bella al centro, vedi? Perfetto, l'hai messa al punto giusto! Adesso, Raffae, io mi metterei dietro la porta così, con Lili, la fa da guardialine! Eh eh eh, la bandierina! Ammazza, la bandierina! Fammi mettere in posizione, così! Ma sai che ti dico, se prendo un altro flamingo e mi metto dall'altra parte, faccio l'altra bandierina! Giusto? Oh, considera che dietro c'hai pure, vedi, gli spalti coi tifosi che stanno avvenenati! Guarda, se non si rompe una gamba per i suoi 40 anni! Oh, scherzo! Oh, scherzo! Tolga! Altra! Oh, scherzo! Bella! 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 Aspetta, Mari! Oh, mua è calda! Ma lasciali pure lì, tanto dopo non l'è! No dai lascia! tanto poi dammi fare la merenda ma chi? lascia, lascia dai ma lascia che? qui la roba lasciala, poi la vediamo dato che il vino è finito, l'acqua mettila nell'acqua l'acqua mettila nell'acqua no, giù c'è ho capito, non la apriamo adesso no, non si muore mi sei messo qua per prendere ci sta non si è muore con l'acqua lo lasciamo su godi, vieni qua mariana ma ti sei ingrassata? non mi entri più nel monitor un pezzetto un pezzettino questo è quando hai riposato questo lo devi straccare no, non so dorme troppo e qui lui che dorme nooo mariana ti ascolto qualunque cosa ti dici? no, chiudi, mettilo una nooo dai questo è tutto dopo ma che cacchio volete va ammazza la cia vado? io guarda fai una cosa noi mettimo nel bicchiere tocca con me oh mio dio si stai bruciando metti a fuoco dietro nooo pazzesco ottimo e poi guarda il cacatappi è lì guarda c'è da sicurina vai lì vai in bere lì lì dov'è l'acqua? vai ah Danilo, Danilo c'è il fratello anche qui del festeggiato c'è anche Linda, Linda, Linda che prima dice che non può bere e invece poi beve Linda prima non può bere poi beve vabbè i misteri di Linda vediamo con la sciabola sciabolata più o meno si vede la pancia? di chi? mia? no si si c'è il braccio davanti ok oh guarda sullo sfondo bello guarda che faccio bello come cosa succede? commentami descrivimi quello che accade accade che tu stai stappando ma io metto a fuoco Alino che sta facendo lo scemo in piscina guarda come casca guarda come casca in piscina grande Alino penso che adesso passava il bambino da la signora così tanto per e rende la giornata così più allegrozza cosa? questa in realtà è una casa questa in realtà è una casa questa non lo sappiamo di che noi siamo entrati questi siamo appropriati te tutto anzi vado vado se sentite delle urla vado veloci rapidi eccolo finisci fallo fuori perché non ci è riuscito dai vedi per i 40 anni auguri bravo si versi versi a tutti quelli che vogliono vino chi vuole vino? ma quanto vi vede ragazzi? non so poco ma infatti oh Danilo eh io qua guarda questo per me grazie vabbè ho capito ma già la strage sta bene comunque sei che mi sembro in questo momento sai quello da rilame del tonno nostromoco è solo un filo d'olio d'oliva se la vuoi? mandati a mangiare se la vuoi? 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 auguri l'ultima volta che abbiamo fatto questo cincino è scoppiata la pandemia poi che bello no non è vero abbiamo fatto anche che vuole eh hai detto vieni qua c'è verano no ti fa cascare Mariano? sono Lilli è stupida Mariano stai facendo un vlog su Lilli ma tutto il garbage ma che vuoi te va tu a fare tu intanto tu c'hai la concorrenza oh c'è pure Margherita no Margherita non la devo riprenda aspetta no mamma abbiamo palle capito? eh ok facciamo il tipo così ci avevo già il tipo fatto non c'è non c'è non c'è se ti avrebbero dato della cioè ci avrebbero detto che l'aveva finito eh sì non c'è se non poteva essere di Fabio no 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 succesi nonanny che bello che bello che carino dimmi qual' e un uomo dappracciПciojo è vero eh e non è bellissimo alors no 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 Quanto bella! Vai, vai Mariana, brava, stai facendo un ottimo lavoro. Guarda, stai lavorando bene oggi, una delle poche volte. Posso ucciderlo, ti prego. Madonna mia, ti deforma l'immagine. Vieni proprio, sembri quasi in alieno. C'è una manualità che... Sembra che hai fatto questo per una vita, ma molla tutto, no? Ammolla tutto e ti metti a aprire le candeline, no? Facciamo i mattoni. Guarda, brava, brava! Vado? Sì. Perfetto, Mariana. 40. Dai, per i tuoi quattro anni. No, no. Le ancelle? Tutti i vestiti del bianco! Che belle! Guarda! Margherita! Margherita, ma perché te porti sempre da beve e non riesci proprio a smette, eh? Cioè, niente! Basta, Fabio, bravo! Basta, Fabio! Eh, va bene. No, infatti devi aspettare un attimo. Che non hai rovinato pure questo! Strano che ne ha rovinato questa, Michele! Grazie! 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 Mi sono messo dalla parte sbagliata, ok? Non c'è stato giusto! Eh, Mariana, scusa... Oh, se devi passare davanti non ti crea problemi, eh? Passa! Grazie! 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 Ma perché? Senti, vai a prendere quel retino che sta là? Eh, ma chiudilo però così che... Guarda che sta a favore! Ma guarda che bello! Ma no, questi sono momenti di televisione bellissimi! Brava, brava! No, no, bello, brava! Complimenti! No, no! Non l'ho toccata, se non è squalificata! No, non l'ha aiutata! No! No, no, non deve essere aiutata! Ha preso in... Ha preso iniziativa! Ah! Ma quello se vola via è... è un'arma, eh! Eh... Alessandro! Ma che hai spenti? Senti! 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 Ma è un... compleanno difficile, eh! Senti! 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 Giù, alinno! Senti! Ma vieni! known! Chiudeldon! 1-10ätter! Mai! éta che c'è.. 40! nuovi! tau ju! Tutti ampio! 3-70iera! questa è la 100 eldına, nel *** eeeeeee infatti è 410 ah tu hai rotto solo il 4 tu hai rotto il 4 fermo ah strano ma ho fatto mezz'ora foto vai vai scatta corri parti spostati dos poi a un il Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.